Coulour trassume. Come? Era Coulour trassume. Trassume. Una volta si dice, cioè il dialetto si, quando uno gli viene mal di storico, no? Trassume. Che gli viene da vomitare, il dialetto si dice trassume. Poi non lo so, chi lo capisce e chi non lo capisce. Come dice? No, io non ho mica capito. Se devo stare qua stasera a fare il cinema o se dobbiamo far ballare la gente. Dimmelo! O se dobbiamo far ballare la gente. Buonasera. Dietro. Avanti, Luciano Farina.